È una macchina ideale per l'utente privato che possa avere superfici di taglio in piano anche fino a 1400 metri quadrati. È una macchina piuttosto economica e la mancanza di trazione non crea scompensi nell'utilizzo. Certo è preferibile optare per una macchina di questo genere se si ha il terreno in piano. Per provvedere all'accensione della macchina è sufficiente avanzare la leva dell'acceleratore, trattenere la leva rossa di sicurezza ed azionare la leva con cordino a strappo e la macchina una volta avviata è pronta per il taglio. Nonostante la mancanza della trazione è molto maneggevole grazie anche alle piccole dimensioni e dal peso contenuto in soli 24 kg. Permette di essere spostata agevolmente con inversioni di marcia molto rapidi. Sollevando il coperchio dietro la scocca è facile rimuovere il cesto di raccolta che dopo avere vuotato l'erba è facilmente riposizionabile.